La particolare evocazione del Centro dell'Alta Locri dall'accoglienza dei migranti viene premiata dal Ministero dell'Interno. Nel programma di incremento della capienza dei posti per fronteggiare il flusso straordinario di richiedenti protezione internazionale che vede lo Sprarre come sistema unico di accoglienza, Riace si trova al secondo posto della Graudatoria Nazionale, subito dopo la provincia di Roma, Riace capitale dell'accoglienza. Il Piano Nazionale, approvato nei mesi scorsi dietro Intesa Sancita in conferenza unificata, prevede altri 100 posti aggiuntivi per il Comune Calabrese, ciò in considerazione dell'incessante flusso di migranti che continua ad interessare le coste meridionali e acquisita la preliminare disponibilità offerta dagli enti locali aderenti al sistema, la programmazione ministeriale, riconosce così il modello intrapreso a Riace da anni in virtù di una politica tutta rivolta ad accogliere gli ultimi della terra integrandoli in un processo di crescita collettiva rivolto agli stessi migranti e ai cittadini. 2000 in tutto, i posti allargati in tutta Italia a decorrere da ieri e fino alla fine dell'anno con un conseguente incremento dei posti attivi da 18.200 a 20.200. Il costo pro capite riconosciuto sarà di euro 35, sono in tutto nuovi comuni calabresi rientrati nell'ultima Graudatoria per un totale di 261 posti in più in tutta la regione. Un posto in più rispetto alla provincia di Roma, ai 100 posti aggiuntivo ordinari di Riace che verranno gestiti dall'Associazione Città Futura Don Puglisi, in qualità di soggetto attuatore, seguono i 40 posti per Gioiosa Ionica, 30 per Camini, Eurocop Servizi, 25 per Caulogna, Consorzio Sociale Goel nel Crotonese, 20 a Savelli e 13 a Carfizzi, 15 posti ciascuno, per Arena Promidea e Polia, mediazione globale nel Vibonese. Ultima in Graudatoria per la Calabria, tre bisacce con tre posti e come ente attuatore la Cosbac. Dai dati precedenti emerge che gli alloggi di prima e seconda accoglienza, finora disponibili in Calabria, erano 1.524, così come risultanti dalla prima Graudatoria Ministeriale, approvata all'inizio dell'anno e valevole per il prossimo triennio. Con una circolare, diffusa a fine maggio dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, erano stati attivati i post aggiuntivi previsti dall'ultimo bando in due tranche. L'idea è quella di cercare di rendere più ampia possibile la rete SPRAR in rapporto ai numeri dei richiedenti asilo, ma allo stesso tempo di costruire anche una rete di prima accoglienza con numeri più o meno equivalenti, in modo che ci possa essere un sistema strutturale che abbia un primo soccorso, una prima accoglienza e il più breve possibile, ma anche strutture e poi la seconda accoglienza orientata all'integrazione. Ora la rete dei progetti SPRAR è raggiunta strutturalmente un'ampiezza più adeguata, per quanto non ancora sufficiente, alla realtà delle presenze e degli arrivi di richiedenti asilo in Italia. Riasce in particolare si conferma come luogo modello nel settore.